Bene, qui siamo, un prode, un secondo prode e qua se va, questo qui il pezzo più schifoso con circa un centinaio di metri Peccato che siamo al nord-est e fa un freddo becco per le mani. La rossa è ghiacciatissima, comunque molto bella. Grazie a tutti. Vai! Eccolo qua! Ah, ah, ah! Fermatemi in cima. Vi faccio una foto. Buongiorno. Bravo Romano. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Vi faccio una foto. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Mi dispiace. Grazie a tutti.